Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale, siamo qui oggi per la zona caffè di serie B, seconda giornata stratosferica veramente una grandissima seconda giornata, sono riuscito a seguirla in gran parte anche qui dalla vacanza e devo dire veramente una bella seconda giornata intensa, piena di sorprese anche possiamo dire e di conferme anche però prima di partire vi devo chiedere un pollice nel suo video, un'iscrizione al canale, mi raccomando totalmente gratuito iscrivetevi, non mi costa niente e lasciate un bel mi piace per supportare i miei contenuti partiamo da Palermo-Bari che ha aperto la seconda giornata, una partita con cui comunque ho già parlato nel post partita una partita bella, molto molto intensa dove abbiamo visto un Bari che nel secondo tempo ha dominato il Palermo in lungo e in largo però un Palermo che nonostante le assenze, nonostante i pochi giocatori disponibili ha fatto un primo tempo di livello, molto molto capace di gestire i contropiedi la squadra di Corini adesso rimane in rinforzi ufficializzati di Mariano e Bettella che saranno sicuramente disponibili dalla prossima giornata e quindi un Palermo in crescita che raccoglie 4 punti nelle prime due giornate così come il Bari che ne raccoglie due con due pareggi proprio con Parma è questo cosiddetto col Palermo però in casa del Bari andiamo avanti con un'altra partita, Perugia-Bari, sì Perugia-Parma scusatemi che finisce 0-0 questa è una partita che mi ha detto poco, sinceramente una partita molto molto maschia nel senso con un campo poco poco bello, possiamo dire un campo quasi di patate quello che c'era Perugia, una partita fatta molto di contrasti secondo me, molto accesa ho visto un Parma comunque ancora in crescita, un Perugia che comunque raccoglie un punto importante contro una squadra forte che sicuramente lotterà per non retrocedere non sono ancora arrivati i primi tre punti per il Parma però non lo reputo io come un campanello d'allarme perché il Parma è una buona squadra e sta facendo vedere cose interessanti in queste prime due gare invece è un punto che per il Perugia secondo me deve andare stretto perché è veramente un punto importante visto come aveva perso la prima giornata con il Palermo andiamo avanti con Ascoli-Spal 1-1, ho visto una Spal in crescita ho visto una Spal in crescita di prestazione, ho fatto veramente una buona partita una partita intensa, una partita fatta di buone giocate e questo era importante perché nella prima giornata con la Regina persa 3-1 avevo visto veramente poco invece ho visto un Ascoli che più o meno si è confermato su pari livello nella partita scorsa e diciamo che il pareggio è il risultato forse più giusto in questa gara però quello da notare ragazzi, mettiamoci un pallino è la prestazione della Spal finalmente in crescita ogni tanto la Spal fa queste buone prestazioni ogni tanto si spegne però veramente rispetto alla prima giornata ho visto passi avanti da parte della squadra di Venturato andiamo avanti con Genoa Benevento 0-0 una partita a senso unico nel senso che se il Genoa avesse vinto 2-0-3-0 non ci sarebbe stato niente da dire abbiamo visto un Genoa padrone del campo un Genoa che ha giocato molto bene che si è visto non annullare un gol perché Yeboah praticamente era in fuorigioco e forse la palla sarebbe anche entrata si è visto togliere un rigore giustissimo perché il fallo su Portanova non c'era però comunque un Genoa che ha attaccato, ha calciato molto da fuori aria Paliari più volte è stato decisivo per il Benevento e per l'appunto un Genoa è un pareggio a cui va stretto perché a livello di occasioni avrebbe meritato sicuramente la vittoria di fronte aveva una squadra in difficoltà che ha raccolto un punto d'oro nessuno dava il pareggio del Benevento a Genoa con questo Genoa supportato anche da un pubblico straordinario un Marassi praticamente tutto pieno però un Benevento che era per l'appunto per il morale si porta a casa un punto importantissimo forse Caserta verrà ancora confermato chi lo sa sappiamo che c'è un De Rossi in pole position nel caso Caserta dovesse saltare nei prossimi giorni e veniamo alle partite di ieri con la prima con Frosinone Brescia reputo un Frosinone show un Frosinone show nel senso un Frosinone che gioca bene a calcio che mette sotto un Brescia che comunque bisogna annotare un Brescia praticamente sotto tono non è quasi mai sceso in campo ma di fronte aveva una squadra per me più forte come il Frosinone che gioca bene ha la intensità trova tre gol molto molto belli il secondo di Giuseppe Caso è un capolavoro cosa vediamo nel secondo gol di Giuseppe Caso vediamo la qualità quanto può essere determinante questo calcettore palla lunga, la stoppa, si gira brucia il difensore dopodiché davanti al portiere lo scarta e tira poi a porta vuoto un gol davvero numero 10 qual numero che porta dietro le spalle Giuseppe Caso al Frosinone un Frosinone veramente spettacolo show che vince la seconda gara in consecutiva va a quota 6 punti un Mille Brescia 3-0 annotiamo per un Brescia assolutamente sotto tono poco visto, veramente poco da parte del Brescia se non qualche piccolo sprazio ma veramente poco poco Brescia di quel buono che si era visto comunque col su Tirol 2-0 ma al vero primo test difficile casca la squadra di Kotlet e forse qui possiamo anche un attimo parlare di progetti nel senso Frosinone è un progetto che va avanti con grosso da due anni invece a Brescia è un continuo cambiare allenatorio un continuo cambiare tecnici e un continuo ripartire da zero e questo per la lunga contro questo tipo di squadre che sono organizzate e come Rosa sono di pari livello alla tua può essere può fare la differenza Ternana Regina 1-0 1-0 partita partita bella nel senso partita anche qui maschia una Ternana sappiamo che giocare al campo della Ternana non è mai facile ma ho visto una buona Ternana che porta a casa una partita ho scritto di cuore di grinta e di passione davanti ai propri tifosi all'iscapito di una regina che comunque ha fatto una buona prestazione non mi sento di bocciare la prestazione della regina che forse anche il pareggio l'avrebbe potuto meritare annotiamo però un grandissimo gol di Partipilo un gol veramente molto molto bello da attaccante vero in area di rigore andiamo avanti con Pisa Como 2-2 grande partita molto molto bella spettacolare possiamo dire un Pisa che che va due volte in svantaggio ma la recupera con cuore con grinta bello il gol di Torre Grosso l'89 secondo me però voglio anche spendere un attimo due parole sul Como che che fa una buona partita che fa in vantaggio due volte ma quando passa in vantaggio secondo me ogni tanto spegne la luce perché poi ho visto veramente un Pisa che dopo che va in svantaggio invece ha una grande reazione all'escapito di un Como che non riesce un attimo a gestire bene il vantaggio però una partita bella intensa il pareggio forse il risultato più giusto Cosenza Modena 2-1 grande gara un Cosenza raga che raccoglie 6 punti nelle prime due giornate è qualcosa di straordinario la ribalta con i giovani con un Florenzi che fa un gol bellissimo da fuori aria ma lì secondo me molto molto male la difesa del Modena non ad accorciare sul giocatore centrocampista del Cosenza li lascia a campo libero li lascia a campo da prendere e giustamente poi Florenzi tira tira un bel raso terra che finisce alle spalle di Gagno e invece il secondo gol di Brescianini è un bel gol da centrocampista si inserisce scarta molto bene i difensori poi calcio ben in porta ed è un Cosenza che la ribalta con i giovani un Cosenza in crescita soprattutto nel secondo tempo secondo me a riscapito di un Modena che invece ha fatto un buon primo tempo mi aspettavo qualcosa di più da questo Modena molto bello il gol comunque che ha fatto il Modena nel primo tempo su Tirol Venezia 2-1 che sfortuna questo su Tirol che si vede scappare via il primo punto storico il Serie B dopo aver fatto comunque una buona partita aver difeso bene soprattutto nel primo tempo gli attacchi del Venezia va addirittura in vantaggio ma poi si fa ribaltare fino al 95esimo dove Curto su un cross raso terra se la butta in porta e regala al Venezia i primi tre punti un Venezia che trova tre punti importanti che danno morale perché per come si era messa era fondamentale almeno portare a casa un pareggio per il Venezia la ribalta addirittura però sul Tirol comunque in crescita secondo me rispetto alla partita contro il Brescia Cagliari-Cittadella che partita che cuore per il Cagliari l'ultima guerra che commentiamo un Cagliari che va sotto gioca molto bene il Cittadella per 60 minuti secondo me fa una grande partita il Cittadella mette e non poco in difficoltà il Cagliari ma dopodiché cala di intensità cala a livello fisico la squadra di Gorini e qui viene fuori la qualità della squadra di Liberani con un mancuso un nuovo mancuso in squadra un giocatore straordinario un giocatore di tecnica sublime fa giocare bene il Cagliari la sessantesima in poi trova il gol dell'1-1 proprio lui su un grande cross di Zitolo Vumbo e poi Makumbu un acquisto importantissimo un acquisto da 10 da parte del Cagliari la ribalta con un bel tiro da dentro l'area che il portiere non ci può far niente però un buon città per 60 minuti poi cala dopo viene fuori la qualità di un Cagliari forte con una rosa importante che trova i primi tre punti di questo campionato pollice nel suo video iscrivetevi al canale noi ci becchiamo a un prossimo video bella ragazzi grazie grazie Grazie.